Buonasera a tutti, questo è un messaggio che verrà trasmesso in tutto il paese, si prega la massima attenzione da parte degli abitanti. Poche ore fa è stata avvistata una nuova minaccia nei nostri territori, sono delle creature che si fanno chiamare doppelganger e hanno l'intenzione di fare del male. Quando vogliono uccidere qualcuno, queste creature diventano completamente uguali alla loro vittima. Se vedete qualcuno di completamente uguale e è simile a voi, scappate e nascondetevi. Che idiozia! Ehi! Mamma non fa ridere! Aaaaaah!